Signore e signori, un altro momento sono, un altro momento è straordinario. L'unica donna al mondo a cantare fu Lui Puli al contrario, conosciuto in tutto il mondo come Lui Puli. Grazie! 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 Penso che ci si chiama, un tecnico per portare i bagagetti, perché poi è questo che è più fatigato. Tutte le sens del teatro di rio alla Plage dei Sipompe, è come si chiama in un luogo urbano, con un cielo, persone che passano, con dei problemi sonore, un bicicletto per terra. C'è ciò che cerchiamo a montare, a dimostrare, a difendere alla Plage. La Plage, è cercare di rappresentare tutte le formi di rio possibili con i maigrii, e cercare di rappresentare l'intervento di rio. Un'intervento di rio è un progetto che si chiama Le Postier, che sono aperte durante 6 giorni, che proposte di scrivere delle lettere d'amore, di envoyare delle vallogramme, di envoyare delle messaggi alle persone sul sito. C'è un'ambiente generale che proposte un po' alla Tati. C'è una forma abbastanza, una forma di vita più che spectaculare. C'è un momento di vita, in realtà, che si chiama. La Plage des Cipons è la Plage des Cipons è la fontana con la cipomp che è il primo di questa promenata che si chiama La Promenade delle Cipomp è un monument, che si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, si chiama, che si chiama. su questa fontana, quindi c'è vero che c'è un attacchamento, on l'aime bene la fontana. Maman c'è tutto, allora che Fifi è super contente, ci si avessero mettere qualche biais, mi ha parlato di questo biais di mille francs sui, io vorrei lo conoscere. Per voi, la scena che s'intitule La promessa fatta a la morante. Musica! La mia squadra. Passi quel suo. Tu non gioi non? Non, non, non. Non, 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 tu non gioi, e, io giù le due roll. Tu l'as annoncé a la mia possibile che che giù le due roll. Grazie a tutti.